Salve a tutti ragazzi bentornati sul mio canale io sono TheOfficialVideogames e oggi vi do di nuovo il benvenuto qui su Farming Simulator 17 nel video di oggi inizieremo quantomeno a sistemare un altro po' questo campo io ho finito di farlo ho buttato giù le piante quindi dobbiamo soltanto togliere le radici quindi per togliere le radici sempre se ci sta il cosiddetto attrezzo utile per fare questa cosa qua adesso non lo so dunque silvicoltura allora le seghe permettono di abbattere gli alberi questo qua che cos'è questo macchinare rompe i tronchi per fare il cippato va bene ok non ho bisogno di questo ma com'è che era che si chiamava qualcosa la seminatrici aspettate aspettate un po' perché mi serve anche che cos'è che mi serviva un coltivatore si il coltivatore per poter coltivare il campo quindi 31 32 beh più andiamo avanti più costano più costano allora no questo qua no questo qua no questo qua no questo qua no no questo qua nemmeno questo qua è 4 metri questo qua 4 orsh 10 metri questo 8 metri 6 metri 6 metri anche questo 4 metri no pigliamo questo qua il tiger 10 lt 10.2 metri acquista perfetto ottimo allora prima di fare e dire tutta stampa radam dunque lasciami questo qua qua e andiamoci a prendere il coltivatore almeno così finiamo di pulire il campo magari vediamo un po' ragazzi se lo puliamo proprio tutto quanto tanto ormai ci siamo perché non pulirlo tutto questo campo no direi quasi quasi anche di sì dunque allora il tempo di arrivare al negozio dei veicoli e ci vediamo non appena siamo arrivati ok ragazzi eccomi arrivato qua al negozio dei veicoli dunque allora portiamoci questo qua a casa almeno così ragazzi ci diamo un bel po' da fare riguardo al sistemare l'altro campo ovvero l'altra metà del campo almeno così ce l'abbiamo tutto quanto fatto una volta che l'abbiamo finito di fare ovvia mont possiamo iniziare anche a seminare qualche cosa però comunque sia io volevo vedere se riusciva a trovare in pratica quella cosa là che toglie in pratica le radici delle piante perché ci sta sul 19 ma qua sul 17 non credo proprio che ci sia adesso non è che ne sono tanto convinto e sicuro di questa cosa ok eccoci arrivati qui ora vediamo se farlo direttamente con questo trattore oppure magari con il fend quello lì nuovo che ho acquistato no diciamo che posso anche farlo con questo qua vediamo soltanto eh sì però cavolo questo qua non ci frena ma manco a pagarlo duro e che cos'è mannaccia te vai abbassa e damose è un po' lentino a schifo facciamo così arriviamo fino alla sotto e poi dopo cambio il trattore perché questo qua ragazzi lo vedo un po' troppo lentino riguardo a questa cosa qua che poi non mi ricordo manco quanti cavoli di cavalli sono può trainare questo trattore non me lo ricordo quanto può trainare ragazzi eh ed ecco qua perfetto allora facciamo alza scollega e colleghiamo l'altro ma almeno così l'altro credo che forse dovrebbe andare meglio non lo so non lo so ragazzi proviamoci perché questo qua noto che purtroppo non è che ci freni proprio così tantissimo eh allora aggancia perfetto alza fai dici fai tutto quello che devi allora questo qua gioca che fa aspettate che cos'era un fend vabbè non ho finito di leggere che cavolo di fend era e che cos'è cioè questo qua se ne va di lato no dai non ci credo questo qua fa 9 km orari guarda qua come se ne sta ad andare di lato cioè che poi quando vado a sterzare per addirizzare il trattore guardate un po' la gomma come che sguiscia come se non ci fosse un domani cioè slitta ragazzi guardate qua sta slittando non ci credo non ce la fa oh maronne santissima cioè non ce la fa è un trattore che è veramente nabbo nabbo proprio a non finire cioè non me la sarei mai aspettata una cosa del genere eh che poi cavolo voglio dire che non è manco un fiat cioè che il fiat il 180 90 faceva in questa maniera qua che se ne andava in pratica di lato che non ce la faceva trainare in pratica un oggetto del genere e che maronna mia cioè no dai ragazzi la potete fare seria una cosa del genere cioè guarda qua non ce la fa non ce la fa manca sterzare guarda qua come sta sgusciando la gomma posteriore maronne santissima maronne santissima chi cacchio me l'ha fatto fa di impigliare sto coso qua guarda qua mi sa tanto ragazzi che devo acquistare veramente un John Deere guarda qua come se ne va di lato cioè ma dai ma che è sta cosa cioè dai veramente ragazzi veramente non me la sarei mai aspettata una cosa del genere da sto minchione di trattore però signorina Genoveffa ma com'è che mi guida sto trattore però dai ma non è vero cioè me lo guida così invece di guidare guarda qua come se ne va di lato no ragazzi no 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 questo qua lo devo assolutamente o cambiare o togliere oppure forse magari lo posso tenere per poter trasportare i raccotti con il carrello perché nella silvicoltura scusate nella coltura e di sicuro nella semina farà anche la stessa identica cosa ma non vorrei dire e fare guarda qua ma dai ma non è vero non ci credo stacca sto coso qua ma per favore per favore no perché se no veramente ragazzi è arrivato a sto punto me lo tengo per poter oppure forse magari non lo so se magari ci vorrebbe un peso dietro non lo so non lo so però comunque sia questo qua va e basta basta e avanza pure questo qua st'altro trattore qua che non mi ricordo ma questo qua però comunque sia non ho capito perché ci frena attacca qua vai buon uomo tizio sì mio signore abbassa vai sì vabbè pure questo qua non è che sta a scherzare però eh ma come devo fare io per poter fare una cosa del genere ma dai ma guarda qua ma pure questo qua sta squisciando come se non ci fosse un domani ma che sono queste cose ma che so ste robe ma dai ragazzi dai non è vero non è non ci credo non ci credo che un trattore del genere non riesce a trainare un cavolo di cosa del genere ma che cavolo allora ma che cacchio stai a fare cioè buh non lo so non lo so non lo so non lo so ragazzi vedete voi perché io proprio guardate veramente non lo so questo rollin rollin tb320 coltivatura non ne fa proprio non ne fa proprio devo scaricare un po' di modi dei john deere va che forse magari sarà meglio con il john deere sì perché il john deere è veramente un john deere quindi ce la fa a priori quindi posso vendere questo e vendo anche l'altro in che senso e magari ci prendiamo direttamente il john deere aspettate fatemi vedere ma non è che già ce l'ho vediamo un attimo trattori dov'è che era mi sa che allora abbiamo il fend è ok eccolo qua john deere fend questa qua è la mod che ho scaricato io agganci aggancio per caricatore frontale sì john deere facciamo un 617 621 621 0r pesi ruote pneumatici larghi doppie ruote posteriori no colore dei cerchioni lasciamo questo qua quindi compra ok fatto vediamo un po' com'è eccolo qua perfetto ottimo dunque detto questo arrivato a questo punto io direi quasi quasi di fermarmi qui con quest'altro episodio della serie di farming simulator 17 mi raccomando fatemi sapere anche la vostra qui sotto qui nei commenti di che cosa ne pensate e mi raccomando spolliciate commentate iscrivetevi attivate la campanellina e da the official video games è tutto noi ci si becca in un prossimo video ciao 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 ciao